Come è il risparmio energetico? Per quanto riguarda l'aspetto dell'ecosostenibilità dovute al fatto che i blocchi e i solai legno-cemento Isotex permettono di realizzare edifici di nuova costruzione con delle performance termiche e soprattutto anche di inerzia e di sfasamento dell'onda termica completamente diverse rispetto ai sistemi tradizionali. Va rammentato che il sistema costruttivo Isotex è composto principalmente dal legno e le PS che da sempre sono materiali con caratteristiche di elevato isolamento termico. Il tutto unito all'utilizzo del calcestruzzo mi porta ad avere questo sistema costruttivo che mi dà inerzia termica, sfasamento dell'onda e quindi ottime caratteristiche sia invernali che estive. Il tutto accompagnato da elevati isolamenti acustici, da un sistema costruttivo che è antisismico e permette di realizzare le nuove costruzioni con dei costi estremamente vantaggiosi rispetto alle cosiddette strutture tradizionali.